Maltempo, il governo regionale delibera lo stato di crisi per 55 comuni. Caltanissetta, ottantenne in stato confusionale, soccorsa dai poliziotti. Bollo auto, proroga dei pagamenti senza sanzioni al 28 febbraio. Ora si attende il decreto relativo alle modalità attuative. Covid nel Nisseno, 396 positivi negli ultimi sette giorni, 153 nel capoluogo. San Cataldo, Babbo Natale in moto, massiccia partecipazione. Sport, calcio, un punto per San Cataldese e Nissa. 1 a 1, De Verde Amaranto contro i Locri in serie D. Stesso risultato dei biancoscudati a Sciacca in eccellenza. Ben trovati. Salute, approvato il piano della rete territoriale di assistenza in Sicilia. Prevista la costruzione di 43 ospedali di comunità, 10 a Palermo e Catania, 6 a Messina, 4 a Siracusa, 3 ad Agrigento, Raguse e Trapani, 2 a Caltanissetta ed Enna. Via libera del governo Schifani al piano della rete territoriale di assistenza della regione siciliana in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Più di 300 milioni di euro di risorse del PNRR sono stati destinati alla costruzione in tutta la Sicilia di 43 ospedali di comunità, 156 case di comunità e 50 centrali operative territoriali. Riformare il sistema sanitario regionale, sfruttando le risorse nazionali ed europee a nostra disposizione per migliorare concretamente il livello qualitativo dei servizi offerti ai cittadini. È una delle priorità del mio governo e non stiamo perdendo tempo, afferma il presidente della regione Sicilia Renato Schifani. Gli ospedali di comunità rappresentano strutture socioassistenziali tra l'assistenza domiciliare e l'ospedale e hanno l'obiettivo di evitare ricoveri inappropriati. Ne saranno costruiti 10 a Palermo e Catania, 6 a Messina, 3 a Agrigento, Raguse e Trapani, 2 a Caltanissetta ed Enna. Il costo complessivo ammonda 96 milioni e 444 mila euro. Le case di comunità rappresentano l'assistenza per eccellenza e in queste strutture si erogano interventi sanitari di integrazione sociale. Il piano ne prevede 39 a Palermo, 29 a Catania, 21 a Messina, 19 a Agrigento, 13 a Trapani, 12 a Siracusa, 9 a Raguse e Caltanissetta, 5 a Enna, per un totale di 216 milioni e 998 mila euro. Infine sono previste 50 centrali operative per un totale di 8 milioni e 480 mila euro, divise 12 a Palermo, 10 a Catania, 7 a Messina, 4 a Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e Trapani, 3 a Ragusa e 2 a Enna. L'obiettivo che ci siamo posti, dice l'assessore regionale alla sanità Giovanna Volo, è quello di portare la sanità ad un livello sempre più prossimo al cittadino. Incontro sull'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela, si punta al rilancio. Sinergia e attenzione per il pieno rilancio del Vittorio Emanuele Di Gela. Questo è il risultato dell'incontro del 16 dicembre scorso, tra il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, l'ingegnere Alessandro Galtagirone, con il direttore sanitario, la direzione medica di presidio e i primari responsabili dei principali reparti dell'ospedale. Un incontro durante il quale c'è stato il confronto e l'ascolto con chi lavora sul campo anche relativamente alle problematiche legate alle difficoltà registrate nel reclutamento di personale, argomento che sembrerebbe ormai una costante in tutta Italia ed in più settori, senza fare eccezione per i reparti di emergenza d'urgenza e il pronto soccorso. Proprio durante l'incontro sono inoltre state valutate delle possibili soluzioni per contrastare le criticità del momento, i cui dettagli si sapranno solo alla loro definizione da parte della dirigenza. Ha affrontato anche il tema delle procedure concorsuali in itinere per reclutare professionisti destinati esclusivamente al presidio di Gela. Un'azione di attenzione particolare messa in campo già diversi mesi fa dalla direzione per dare al Vittorio Emanuele una dotazione di personale stabile, così riporta la nota diffusa. Stessi obiettivi quindi, sia per la direzione che per i professionisti, per il pieno rilancio dell'ospedale. Tra le attività concordate ci sarà anche una campagna di comunicazione mirata a fare conoscere ai cittadini tutti i servizi assistenziali che offre il presidio gelese. È stata un'occasione proficua, ha dichiarato il direttore generale Alessandro Caltagirone, per fare il punto su tutte le azioni da mettere in campo per il pieno rilancio dell'ospedale di Gela. È obiettivo di questa amministrazione, prosegue, il percorso già intrapreso per rendere questa struttura sempre più attrattiva sia per i pazienti che per gli operatori sanitari che la sceglieranno come sede di lavoro. Maltempo, il Governo regionale delibera lo stato di crisi per 55 comuni. Con l'arrivo dell'inverno il maltempo non ha risparmiato la Sicilia causando in molte zone dell'isola danni e disagi permanenti. Non si è fatta attendere l'azione del Governo regionale che ha deliberato lo stato di crisi regionale e richiesto quello di emergenza nazionale per la durata di un anno per i territori di 55 comuni siciliani colpiti dal maltempo che ha interessato l'isola il 22, il 23, il 26, il 27 novembre e lo scorso 3 dicembre. Lo ha deciso l'Aggiunta presieduta dal Governatore Renato Schifani su proposta della protezione civile regionale. Il provvedimento adottato, dice il Presidente della Regione, ci consente di attuare gli interventi immediati a supporto delle popolazioni afflitte dagli intensi eventi atmosferici che hanno colpito una vasta parte del nostro martoriato territorio. Al contempo chiediamo risorse e opera al Governo nazionale perché non possiamo essere lasciati soli a fronteggiare una situazione complessa che i cambiamenti climatici rendono sempre più pericolosa. Il maltempo che si è abbattuto in questi comuni ha causato gravi danni alle infrastrutture pubbliche e private, alle attività produttive e commerciali, ai beni e alle persone. Per l'intensità e l'estensione dei fenomeni, la protezione civile ritiene che serve urgenza di intervento e poteri straordinari per un anno. I danni sono stati provvisoriamente stimati in 22 milioni di euro per azioni urgenti e indifferibili, mentre altri 30 milioni serviranno per interventi strutturali di riduzione del rischio futuro. La Caltanissetta, un'ottantenne, in stato confusionale, è stata soccorsa dai poliziotti. Qualche giorno fa, una volante della Polizia di Stato, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza del 112, è intervenuta nel capoluogo poiché una donna anziana in stato confusionale non trovava più la via di casa. La donna, smarrita in lacrime a causa della patologia dalla quale è affetta, ha riferito agli agenti di essere uscita di casa e di non ricordare più quale fosse la via per farvi ritorno. Mentre la sala operativa della Questura si era attivata per identificare la donna, gli agenti hanno provveduto a rasterenarla, a darle del cibo e a ristorarla. L'ottantenne, rassicurata dalla presenza e dalla cura dei poliziotti, si è così calmata. Dopo essere state identificate, i poliziotti hanno rintracciato il figlio dell'anziana donna e l'hanno riaccompagnata a casa. La signora, una volta al sicuro, prima di salutare gli agenti, li ha voluti abbracciare affettuosamente, ringraziandoli per il loro intervento. Bollo proroga dei pagamenti senza sanzioni al 28 febbraio. Ora si attende il decreto relativo alle modalità attuative. Nuova proroga per il decreto stracciabollo per pagare il bollo auto senza le sanzioni né gli interessi. Il nuovo termine è il 28 febbraio 2023, previsto con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze. I pagamenti del bollo di auto e moto potranno essere effettuati purché la scadenza rientri tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2021. Circa le modalità attuative rivolte agli ufficiaci sarà necessario attendere il decreto. Sulla misura rivolta dalla regione l'assessore all'economia Marco Falcone dichiara che questa proroga di ulteriori due mesi faciliterà le cose ai cittadini che intendono mettersi in regola seguendo l'esempio dei più di 150 mila siciliani che hanno saldato gli arretrati nei mesi scorsi. Così il governo Schifani conferma l'impegno di andare incontro a cittadini e imprese lavorando per l'equilibrio finanziario della regione. Covid nel Nisseno 396 positivi in 7 giorni 153 nel capoluogo Negli ultimi 7 giorni il riscontro di 396 pazienti positivi al Covid tutti in isolamento domiciliare 153 pazienti di Caltanissetta 73 di Gela 50 di San Cataldo 24 di Niscemi 20 di Mazzarino 15 di Mussomeli 13 di Delia 9 di Vallelunga Pratameno 8 di Santa Caterina Villarmosa 7 di Milena 5 di Riesi 4 di Serra di Falco 4 di Sommattino 2 di Butera 2 di Campofranco 2 di Marianopoli 2 di Montedoro 1 di Bombenziere e 1 di Sutera Ricoperati in decenza ordinaria 6 pazienti di Caltanissetta 4 di Gela 4 di Niscemi 3 di Mazzarino 1 di San Cataldo 1 di Delia e 2 provenienti da fuori provincia dimessi dall'adegenza ordinaria 4 pazienti di Caltanissetta 2 di San Cataldo 2 di Marianopoli 1 di Gela 1 di Riesi 1 di Niscemi 1 di Vallelunga Pratameno e 1 proveniente da fuori provincia deceduti 3 pazienti positivi al Covid 1 di Caltanissetta 1 di Gela e 1 proveniente da fuori provincia i guariti sono 153 di Caltanissetta 71 di Gela 29 di San Cataldo 20 di Niscemi 9 di Mussomeli 7 di Sommatino 7 di Milena 7 di Delia 6 di Mazzarino 6 di Santa Caterina Villarmosa 5 di Riesi 3 di Montedoro 2 di Campofranco 1 di Butera 1 di Resuttano 1 di Sera di Falco 1 di Vallelunga Pratameno e 1 di Villalba Caltanissetta prodotti tipici del territorio in primo piano nel fine settimana i prodotti e le aziende del territorio sono stati i protagonisti dell'ultimo weekend nisseno all'interno del villaggio dei Sapori e dei Saperi un'iniziativa di Slow Food Caltanissetta e Comune Nisseno tre giornate dal 16 al 18 dicembre tra gli stand allestiti davanti la chiesa di Santa Maria la Nova e San Sebastiano e gli eventi organizzati tra la piazza Garibaldi e Palazzo Moncada dal laboratorio con degustazione di formaggio ad un convegno dal titolo La Fidera Legale Il villaggio è stato voluto tramite anche una collaborazione appunto iniziale con l'amministrazione comunale per dare una possibilità e una visibilità ai prodotti provenienti da diversi paesi dell'area nissena e ovviamente abbiamo dato come priorità sia ovviamente i prodotti dell'agroalimentare i prodotti artigianali ma anche momenti di riflessione culturale quindi dei laboratori di esperienza per quanto riguarda i formaggi soprattutto a livello appunto organolettico di degustazione per capire quello che abbiamo appunto a disposizione sul territorio prodotti straordinari e poi una importantissima occasione di riflessione sulle filiere legali presenti presidi Slow Food come la lenticchia di Villalba e la Cudduredda di Delia ma anche il torrone di Caltanissetta diventato anch'esso presidio riconoscimento che è stato presentato ufficialmente alla città in piazza Garibaldi domenica mattina un evento al quale hanno preso parte anche il presidente siciliano di Slow Food Fabio Di Francesco e la fiduciaria della condotta nissena Stefania Fontanazza il sindaco Roberto Gambino e la vice sindaca grazie a Giammusso che guida anche l'assessorato allo sviluppo economico ottenere la chiocciola Slow Food significa far acquisire dignità culturale al nostro torrone di qualità anche e soprattutto al di fuori dei nostri confini afferma Grazia Giammusso alimentando la cultura alimentare dei cittadini ed in particolare delle giovani generazioni con l'obiettivo del raggiungimento della piena coscienza del diritto al piacere e al gusto allo stesso tempo conclude il presidio offre numerose opportunità a quanti operano nel settore dolciario producendo torrone di qualità da proporre alla propria clientela dopo un bel percorso è stato finalmente raggiunto l'obiettivo del presidio del torrone tradizionale di Caltainstet come presidio Slow Food un riconoscimento a livello internazionale che porterà sicuramente illustre occasioni di sviluppo economico e anche turistico alla città un riconoscimento dal punto di vista culturale il presidio infatti ha una valenza socioculturale una valenza storica è importantissimo per le nostre tradizioni e per i prodotti che vengono prodotti nel nostro territorio Zotecnia si sblocca la movimentazione di bestiame dalla Sicilia l'assessore regionale Luca Sanmartino un provvedimento fondamentale per gli allevatori siciliani buone notizie per gli allevatori della Sicilia si sblocca infatti la movimentazione del bestiame ovini caprine bovini dalla Sicilia verso il resto d'Italia un mese fa era arrivato il blocco in seguito alla segnalazione di malattie che avevano reso necessario il provvedimento da parte del ministero della salute su indicazione della regione siciliana la stessa decisione era stata presa per la Sardegna adesso grazie all'interlocuzione con il ministero da parte della regione siciliana nella persona dell'assessore dell'agricoltura Luca Sanmartino e della regione Sardegna è arrivato il via libera alle movimentazioni degli animali sia da vita che da macello si dovranno rispettare soltanto alcune procedure di carattere sanitario che i servizi veterinari delle ASP comunicheranno preventivamente agli operatori interessati nel rispetto delle indicazioni del ministero e dell'assessorato regionale della salute si tratta di un provvedimento di grande importanza per i circa 9.000 allevatori di bovini e gli 8.000 di ovini e caprini siciliani dice l'assessore Sanmartino il blocco di un mese ha messo in ginocchio la zootecnia regionale di produzione di carne proprio in un momento quelle delle festività natalizie che vedono aumento delle richieste siamo riusciti a scongiurare il peggio e ora è possibile salvare almeno una parte dell'economia creata nel periodo festivo L'eredità di Verga a 100 anni dalla scomparsa iniziativa a Caltanisset E' passato un secolo dalla morte di Giovanni Verga lo scrittore e drammaturgo siciliano che fu anche senatore scomparso proprio nel 1922 le sue opere il sutratto verista la sua contemporaneità e soprattutto la sua collocazione anche a livello europeo sono stati questi i temi affrontati durante la conferenza dal titolo L'eredità di Verga a 100 anni dalla scomparsa un evento voluto dall'inner wheel di Caltanisset e dall'iceo classico linguistico e coreutico Ruggero VII La lettura che ci ha dato la professoressa Dora Marchese lo colloca in un confine non nazionale ma europeo e anche extra europeo Mi sono particolarmente commossa perché la professoressa Dora Marchese ha sottolineato il fatto che Verga alberga in ognuno di noi perché durante il suo periodo ha raccontato interpretato il momento storico ma chiaramente la lettura è contemporanea perché molti giovani così come ha fatto lui si trasferiscono al di fuori della regione e hanno appunto questo ricordo nostalgico della Sicilia Mi si chiede perché leggere Verga oggi perché Verga è un autore fondamentale uno scrittore che ha attraversato quasi un secolo d'Italia di storia dell'Italia dalla spedizione dei Mille fino alla Grande Guerra e lo ha fatto attraverso molti generi e molti temi e molte fasi da quella tardoromantica passando per i capolavori veristi fino al romanzo socialista da tuo al mio Funzione religiosa natalizia interforze in cattedrale a Caltanissetta presenti il prefetto Chiara Armenia il questore Emanuele Ricifari il comandante dei carabinieri Vincenzo Pascale rappresentanti dell'autorità giudiziaria di diverse istituzioni e associazioni la messa è stata celebrata dal vescovo Mario Rossotto Festeggiati i 50 anni dell'Associazione Nazionale Carabinieri Ugolini di Caltanissetta L'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Ugolini di Caltanissetta ha festeggiato sabato per disposizione della Presidenza Nazionale i 50 anni della fondazione infatti la Presidenza Nazionale forgia di una medaglia di bronzo ogni associazione che compie il 50esimo anno di fondazione quella di argento al centesimo e la medaglia d'oro al 150esimo anno prima della cerimonia si è svolta la messa presieduta da padre Giuseppe Alessi siamo qui riuniti per festeggiare questo evento che diventa storico per la sezione anche perché tra di noi fortunatamente abbiamo presente il socio Carabinieri Canizzaro che fu all'epoca uno dei fondatori della sezione io sono stato congelato sono arrollato nel 1950 nel 54 sono stato congelato per causa delle malattie e poi fra 12 persone dalla Caltanistetta abbiamo contato l'associazione Carabinieri in congelo allora io avevo 22 anni e sempre avanti sempre avanti sempre avanti e fino ad oggi vado per il 91 e sono qua a festeggiare il 50esimo all'alba dei Carabinieri Babbo Natale in moto massiccia partecipazione a San Cataldo grande successo per la seconda edizione di Babbo Natale in moto che si è svolta a San Cataldo dove la città è stata sommersa da più di 300 centauri vestiti con i classici costumi natalizi dove si è vissuta la magia del Natale tra colori suoni sorrisi e felicità dipinta non solo nelle facce dei bambini ma anche in quelli più grandi tante persone per le vie della città hanno partecipato a questa iniziativa dove aspettavano il passaggio delle moto e vedere sfilare questa carovana un plauso a Luigi Vullo e alla famiglia Faraci per la riuscita manifestazione con l'appuntamento dunque al 2023 per la terza edizione Sport Calcio un punto per San Cataldese e Nissa 1 a 1 De Verde Amaranto contro i Locri in Serie D e stesso risultato della Nissa Sciacca in eccellenza non va oltre l'1 a 1 la San Cataldese contro i Locri al Valentino Mazzola di San Cataldo Verde Amaranto in vantaggio nel primo tempo al sesto con Cutrona sull'1 a 0 la squadra di Pietro Infantino dà l'impressione di poter controllare la partita ma nei primi minuti del secondo tempo i Calabri trovano il gol del pari con Ficara un pareggio importante per entrambe le squadre impegnate su fronti diversi da una parte i Locri secondo della classe dall'altra la San Cataldese che lotta a denti stretti per la permanenza nella categoria mercoledì 21 nel turno infrasettimanale Paternò San Cataldese i risultati della sedicesima giornata Real Aversa Mariglianese 2 a 2 Ragusa Licata 0 a 1 Trapani Vibonese 2 a 1 Canicatì Cittanova 0 a 1 Acireale Paternò 3 a 0 La Mezzia Sant'Agata 2 a 2 Santa Maria Catania 2 a 1 San Cataldese Locri 1 a 1 San Luca Castrovillari il 18 gennaio La classifica Catania 39 Locri e la Mezzia 29 Sant'Agata 26 Vibonese 25 Trapani e Licata 23 Ragusa 22 Real Averse Castrovillari 20 Canicatì Acireale San Cataldese 18 San Luca Santa Maria Cittanova 17 Paternò 13 Mariglianese 4 Pareggia La Nissa Sciacca Biancoscudati in gol nel finale del primo tempo con Lusero sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Dibbiase Nella ripresa i locali pareggiano con Mangiaracina dopo la pausa natalizia il campionato di eccellenza riprenderà l'8 gennaio con Nissa Casteldaccia Stiamo crescendo di settimana in settimana ora questa sosta ci permetterà di conoscerci bene soprattutto con gli ultimi arrivati e siamo fiduciosi che la Nissa può fare un bel genio di ritorno ma più di fiducioso ne sono convinto I risultati della quindicesima giornata Cus Palermo Mazzarese 1 a 5 Sciacca Nissa 1 a 1 Don Carlo Parmonval 1 a 1 Enna Profavara 3 a 0 Mazzara Casteldaccia 2 a 1 Resultana Acragas 0 a 3 Leonfortese Oratorio 0 a 0 Gella Castellammare 3 a 0 La classifica Acragas 36 Enna 35 Don Carlo 32 Profavara 31 Mazzara 28 Mazzarese 27 Sciacca 24 Casteldaccia 20 Nissa 19 Castellammare 17 Leonfortese 16 Oratorio 14 Gela 9 Resultana Cus Palermo 8 Parmonval 5 Volley Serie B2 Femminile L'Alba Verde Caltanissetta cade a Erice e le Nissene perdono anche il primo posto Seconda battuta d'arresto per l'Alba Verde Caltanissetta che cede per 3 a 0 ad Erice contro la Procori e perde anche il primo posto in classifica Una sconvitta netta quella delle pallavoliste Nissene che per la prima volta in stagione si sono trovate di fronte a un avversario ostico e deciso che dopo un avvio di stagione altalenante sta ritrovando gioco e fiducia Appuntamento adesso del 2023 quando il 7 gennaio al Palacanizzaro l'Alba Verde incontrerà la capolista Pallavolo Crotone Ecco i risultati dell'undicesima giornata del campionato di serie B2 Girone M Pallavolo Crotone e Cuscatania 3 a 0 Procori e Ricina Alba Verde 3 a 0 Zafferana Stefanese 3 a 0 Funivia Etna Gioiosa 2 a 3 Brico City Ardenz Comiso 3 a 0 Saracena Fidelis Torretta 1 a 3 Volle Regione Planet 3 a 0 La classifica Zafferana e Pallavolo Crotone 29 punti Alba Verde 28 Procori e Ricina 24 Cuscatania 21 Gioiosa e Fidelis Torretta 20 Funivia Etna 17 Saracena e Volle Regione 12 Brico City 9 Ardenz Comiso 6 Stefanese 3 Chiude la Planet a 1 punto E tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione appuntamento rinnovato alle prossime edizioni Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà al centro-sud a pressione atmosferica relativamente alta quindi condizioni meteo buone mentre il nord Italia viene lambito da queste correnti umide occidentali che porteranno un graduale aumento della nuvolosità e poi mercoledì anche delle piogge Controlliamo intanto la previsione delle nubi attese sull'Italia questo martedì vedete al centro-sud le zone di sereno saranno davvero ampie invece il nord dovrà fare i conti con nuvolosità più estesa e compatta però per il momento senza grandi conseguenze se controlliamo le piogge attese sull'Italia vediamo giusto qualche goccionina di pioggia sulla Liguria a fine giornata sulla bassa Lombardia e sull'Emilia Occidentale ma per il momento il tempo ancora tutto sommato ottiene quindi in definitiva ci attende un martedì che al centro-sud sarà più che discreto con ampie zone di sreno qualche nuvola in più in Toscana ma per il momento appunto senza precipitazioni significative il nord invece qualche nuvola in più e diciamo già le prime gocce di pioggia in Liguria e poi a fine giornata anche sulla pianura Lombarda per il momento invece sulla fascia alpina prealpina non mancheranno anche delle parziali aperture al nord però temperature relativamente contenute per tutte le taglie comunque sulle vostre località anche fino a Natale consultate l'app di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Messana Viale Conte Testa Secca Servizio notturno Romano Corso Vittorio Emanuele